Un fitto calendario di seminari, giornate dimostrative e convegni per l'ultimo trimestre del 2010, quello programmato dall'Alsea per l'aggiornamento professionale degli imprenditori agricoli. Un totale di 45 incontri sul territorio regionale, organizzati dalle aziende agricole sperimentali dell'Agenzia. Questi gli appuntamenti della prima metà di novembre. Il 2 novembre a Montalbano, nella Sala Consigliare, e l'11 a Metaponto, presso l'Azienda Sperimentale Pantanello, alle 17, seminari sulla lotta alla sciarca delle Drupace. Il 4 novembre a Brienza, nella Sala Refettoriale del Comune, alle 19, incontro tecnico di aggiornamento sulla condizionalità. Sempre il 4 novembre, ma maschito, alle 10, giornata dimostrativa sulla taratura delle macchine irroratrici. Il 13 novembre, doppio appuntamento, a Rotonda, alle 9, presso l'Azienda Sperimentale Pollino, mostra e convegno la biodiversità agricola nel settore orticolo e cerealicolo nel Parco Nazionale del Pollino. A Pantano di Pignola, nella Sala del Santuario della Madonna degli Angeli, alle 17 e 30, mostra e convegno Saga del Fagiolo Rosso scritto. Per conoscere tutti gli incontri, visitate il portale dei servizi di sviluppo agricolo www.ssa-basilicata.it, canale Formazione.